Ed eccomi qui, io il mio volantinaggio, la mia ricerca ad Aune, in via Aune, l'ho fatta. Sono veramente felice perché ho ritrovato persone che erano anni che non vedevo. Adesso vado dalla signora Maria che mi sta preparando un buon caffè per riscaldarmi. E che dire, siamo in un paese meraviglioso, lo abbiamo a 5 minuti, tenete presente che è proprio sopra Pedavena. Adesso non facciamoci portare via gli immobili dalla UE, dall'Unione Europea, con le nuove direttive. E credetemi, qua ti puoi rigenerare corpo ed anima. L'aria è pulitissima, siamo tranquilli, c'è una serenità. E gli immobili, ovviamente, sia quelli storici che quelli nuovi, donano, avete sentito il gallo? Donano comunque una realtà e una sensazione di serenità che su pochi paesi puoi trovare. E quindi se vendi casa, ragazzi, vendi casa con me. Anche il gallo è d'accordo. Ciao! 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 Grazie a tutti.